Può cominciare Mondo Sport Casamiccio alla quarto grado, gara valevole per la nona giornata del... Gianni Conte mette fuori la difesa del quarto grado, poi va alla conclusione il numero 8 di Maio. Parte Chassà, direttamente in porta, è il tiro che va sul fondo, può far partire il cross, lo fa in questo momento. Il tiro al volo, la girata, parte Chassà, direttamente in porta, Fiore mette in angolo. Il tema Parisi, il cross, svetta il numero 2, poi la palla resta lì, il tiro di Spadera, c'è la deviazione ma tutto regolare secondo l'arbitro. Ancora si gira il numero 9, può calciare, palla alta, il quarto grado, Mondo, occhio la sfera, termine di Piedri, il numero 4, il tiro, la palla che sfiora il gol. C'è Ballirano che va a terra, lotta senza fallo secondo Labio, qui occhio al calcione di Eluise che è già ammonito e c'è il rosso diretto. Può ricominciare il secondo tempo della partita tra Mondo Sport e quarto grado. Il Mondo Sport che ha spazio, il numero 18, entra in area, serve Ballirano e c'è il gol, il gol di Ballirano. Si porta in vantaggio il Mondo Sport, prova a giro Gianni Conte, grande occasione. Allora Sashan, lungo verso Romano. Romano qui controlla, viene toccato Turinari e c'è il calcio di rigore, calcio di rigore per il quarto grado. Può partire Romano, il tiro e c'è la rete, 1 a 1, Gennaro Romano pareggia i conti. Si muove il numero 18, regolare la posizione, il tiro e c'è il gol, il gol di Pisano. Ribalta tutto il quarto grado in pochi minuti, l'esultanza sotto la... Parte l'angolo, svetta Monda e c'è il 3 a 1, il 3 a 1 del quarto grado. Torino, serve Romano, Romano, il tiro di Romano, palla alta, lo fa Gianni Conte. Alla conclusione il tiro, compagnone respinge, poi Ballirano verso Di Maio, il tiro e c'è il gol di Di Maio che riapre il match al 39esimo. Entra in area Torino, si gira, palla a Sashan, il tiro che sfiora il gol. Tiro deviato, poi arriva il numero 7, presto Pino, il tiro respinto. In due tempi riesce compagnone Gonzales dall'altro lato, converge al centro. Il tiro di Gonzales e palla larga, ma termina ora Mondo Sport 2, quarto grad 3.